Vale circa 7 milioni di euro l'anno per il periodo 2015-2019 il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sottoscritto oggi a Palazzo Donnini fra la Regione dell'Umbria e Busitalia Sita Nord SRL. Una firma, ha spiegato l'assessore regionale Chianella, con la quale si chiude il cerchio per i servizi ferroviari sull'infrastruttura regionale ex FCU. Prima con il contratto di servizio con Trenitalia fino al 2020, poi con l'accordo quadro con RFI sulle tracce ed ora con il contratto di servizio con Busitalia viene garantita la qualità del servizio ferroviario nella Regione. Per i prossimi anni abbiamo definito il rapporto con le società di gestione delle diverse modalità. Che cosa prevede il contratto? 1.200.000 km a fronte di un corrispettivo di circa 7 milioni oltre IVA. Diciamo che le variazioni che potrà subire questo contratto saranno minime. Nell'articolato è riportato che ci sarà in ribasso e in aumento uno 0,4%, può essere in ribasso e in aumento, ma concordato. Quindi abbiamo anche negli allegati previsto una serie di obblighi da parte della società per garantire una qualità nell'espletamento dei servizi. Busitalia si è impegnata a svolgere il servizio ferroviario regionale per conto della Regione Umbria in un percorso nord-sud che si sviluppa lungo la valle del fiume Tevera attraversando le due province e 12 importanti comuni fino a toccare alcune località delle regioni limitrofe che costituiscono i nodi di collegamento ferroviario per l'accesso all'Umbria. Su queste linee di collegamento fra Sansepolcro, Umberti, De Ponte San Giovanni, Perugia Sant'Anna, Terni, da marzo a dicembre 2014 sono stati trasportati circa 834.000 passeggeri per una percorrenza di 1.052.000 treni al chilometro. Busitalia con la firma di oggi si impegna a rinnovare potenziale ed effettuare interventi di ristrutturazione per 1.150.000 euro. Il contratto di servizio prevede che nel corso del 2016 vengano intraprese iniziative per avviare dal 1 gennaio 2017 la gestione unitaria dei servizi ferroviari regionali sulla rete nazionale e regionale per facilitare l'integrazione tra le modalità di trasporto pubblico.